Signore e signori, stasera è con noi l'uomo che può farvi morire da ridere. Ecco a voi Saverio Grappatax. Applausi, carrellata sul pubblico. Grazie, grazie. Grappatax s'inchina. Parla mani giunte con aria ispirata. Ogni serata nel nostro splendido paese è felice e particolare, ma questa serata è particolarmente felice e particolare. Abbiamo infatti con noi l'onorevole Enoch. Oh contraddizione, musa del comico, oh diva ironia, oh elegante mantello dello humor e spada della satira e lama del viz e gavettone del lazzo. E voi, giochi di parole e nuvole del non-sense. E tu, amica dei comici, sola vera ispiratrice, sguardo severo, splint, tragedia, serietà. Tu, o morte, aiutatemi a cantare le lodi di un uomo le cui orme dei passi spiegatati, spietati, scusate, resteranno nella storia. Un uomo di alto ingegno e provvido potere. Saprò trovare le parole acconce? Spero di sì. Il gerarca Enoch, per cominciare, è un ladro. Oh no, sussurrate, no sbigottite. Questa parola ha nella mia bocca la delicatezza di una frase d'amore. E naturalmente ladro, poiché in un mondo di ladri, egli cercò armonia e coerenza. Iniziò la carriera speculando sui terreni. Sui terreni costruì case che crollavano, vinse gli appalti di ricostruzione, costruì case che ricrollarono. Ora vive in un alto grattacielo, ma non ha dimenticato il tempo in cui costruiva misere case che crollavano. Non ha dimenticato le sue umili origini. Anche i suoi grattacieli crollano. Ciò va a suo onore. Dicono che il gerarca Enoch sia un mafioso. Egli lo nega. Se mi vedete nei ristoranti frequentati dai mafiosi, dice non per questo sono mafioso. Forse se qualcuno frequenta i ristoranti cinesi viene accusato di essere cinese, ha ragione. Dicono che Enoch faccia parte di una loggia segreta di incappucciati che si scambiano favori e tramano intrighi e si regalano banche. Ma ciò non è normale socievolezza umana? Forse che ogni famiglia, gruppo sodale, squadra di calcio, folla di linciatori non è in qualche modo una setta? Ameremo forse il moralista solitario e cinico, lo sterile anacoreta, lo sprezzante remita e non piuttosto la compagnia degli amici più cari? Si dice che Enoch faccia buttare in mare i suoi nemici con i piedi in un blocco di cemento. Non è forse da apprezzare questo? Certamente ognuno di voi, almeno una volta nella vita, ha provato ad annegarsi e conosce l'orribile sensazione del proprio corpo galleggiante che si occupone al nostro scopo e conosce la fatica immensa che costa sprofondare. I tentativi goffi che finiscono in indigestioni d'acqua salata e umilianti salvataggi da parte di rozzi bagnini. Un blocco di cemento vi guida nel profondo blu, dolcemente, senza pena alcuna. Inoltre, quando sarete sul fondo, sul vostro piedistallo, soldatini del mare, quanta allegria e gioia arrecherete i pesci che vedranno il loro paesaggio arrecchito di una così graziosa statua. Si dice che Enoch faccia ammazzare i giudici che lo vogliono condannare, ma nella nostra Costituzione non è forse sancito il diritto alla difesa per ogni imputato. Enoch, dicono, è anche un corruttore, ma è un corruttore onesto. In vent'anni di corruzione nessuno ha mai ricevuto da lui una cifra inferiore al patuito. A volte, anzi, aggiunge di sua iniziativa una somma a qualche tangente, a qualche bustarella. Come descrivere la gioia del corrotto che si vede corrotto oltre i suoi stessi meriti? Sapete che ci sono funzionari che devono aspettare interi mesi per venire pagati dai loro corruttori e spesso sono pagati con cambiali e assegna vuoto? Non è disonesto tutto ciò? Ebbene Enoch è di un'altra pasta. Enoch, si dice, vende armi? Certamente così, ma un'arma è un oggetto come un altro, non spala da sola, non si muore solo perché si tiene in mano un'arma, forse che noi condanniamo un salumiere perché vende prosciutti? Eppure un prosciutto può diventare ben più pericoloso di un'arma. Usato come clava, può fracassare una testa. Mangiato in quantità smodata, può uccidere per indigestione, trigliceridi, botulino, soffocamento. Cadendo dal soffitto della cantina, può stroncare più di una vita. Inoltre, il prosciutto nasce da un delitto. Non si deve ammazzare un maiale per fare una pistola. Per fare dicono ha dei segreti. Anch'io ne ho. Enoch dice menzogne. Anche io ne dico. Enoch ha abbandonato il suo miglior amico in mano ai terroristi e lo ha lasciato uccidere senza muovere un dito, perché egli ha posto al di sopra dell'amico lo Stato. Enoch ha anche tentato un colpo di Stato, perché egli ha posto al di sopra dello Stato l'idea dello Stato. Enoch si è molto arricchito, dicono le leggende. Possiede una barca a vela di 50 metri con vele di cashmere e tre piscine, di cui una per le aragoste. Possiede una villa piena di opere d'arte, 160 metri di impressionisti, 12 metri di caravaggio, 300 chili di picassi, una pila di cli alta così e un tote di chagall. Ha 12 auto blindate, una vespa corazzata e una bicicletta che morde. Ma cosa sono queste ricchezze rispetto al sorriso di un bambino? Enoch mantiene 112 amanti e ognuna delle quali ha regalato un anello di diamanti, un'auto con autista, un appartamento, un canale tv e una sveglia al quarzo. A terreni, ville, aiuole, campi di cavoli, garage, isole, vigneti. E allora è forse male volere un tetto, amare l'arte, fare regali a chi si ama? Enoch dicono è proprietario del 90% dei giornali e vuole il monopolio completo dell'informazione. Bugie, non so dove l'avete letto, ma aspettate ancora un 10% e non lo leggerete più. Enoch, si dice, è un uomo pericoloso per la nostra democrazia. Non riesco a vedere il pericolo, per la verità non riesco neanche a vedere la democrazia. Tra qualche anno forse Enoch sarà il primo dei gerarchi, poiché egli è un uomo assolutamente mediocre. Un giorno forse Enoch vi ucciderà. C'è da morire da ridere, ma non dubitate, non è quest'ultima cosa che dirò. So fare il mio mestiere. Vedete al tavolo di Enoch la moglie di Enoch? Ha veramente un bellissimo vestito che le inguaina le forme rotonde, tutto di raso bianco color porcellana. Adesso capisco perché si dice alla festa c'erano delle bellissime toilette. Signora, se le tiro a quell'orecchino gigante immagino che venga giù l'acqua, no? È vero, sì, sono volgare. Noi comici siamo volgari. Il mio camerino è così sporco che gli scarafaggia hanno preso una domestica ore. E ora vi lascio. Siete splendidi. Grazie, grazie, grazie. Siete un pubblico meraviglioso. Applausi. Grappatac si inchina, si avvicina al tavolo del gerarcha Enoch. Il gerarcha è molto risentito, poi ride una battuta e Grappatac ride. Ridono ancora. Enoch mette una mano sulla spalla di Grappatac e lo rimprovera. Con un ditino brindano. Dissolvenza. Il filmato era finito. Nella casa di Grappatac scoppiò un fragoroso applauso accompagnato dagli strilli dei nani. Eri bravissimo, pianse Bobo. Sei ancora il migliore di tutti, pianse Raul. Gliela faremo vedere, pianse Nick. Grappatac si era alzato dalla poltrona, abbracciava gli amici e si spostava di qua e di là con sorprendente vigore. Aveva indossato un vecchio smoking di scena dietro al quale affogava con grazia. Tra quelli che lo complimentavano riconobbe grandi amici del passato come Poldo Pelo, Bobocinski e la Lara Belara. La vecchia soffitta, decorata con piante e fiori, piena di gente venuta per festeggiare, aveva cambiato aspetto. C'era quasi una parvenza di mondanità. Non male questo loft party, vero? Mi disse Amedeus politropo, passandomi vicino con due bottiglie di vodka per mano. Alice era più bella che mai, aveva un vestito di velluto nero e girava dispensando sorrisi e tartine. René la mucca, che aveva aggiunto al completo domocpac un papillon, cato do fluore scente, raccontava ad alcune ammiratrici la nostra impresa, con prefazioni e postille. I nani facevano salterelli quasi mortali, Maramei ballava con Balser e io non ero felice come previsto. Aspettavo qualcosa, non sapevo cosa. Mi ero tenuto sobrio, dieci fernette corrette al ginseng. D'un tratto Alice mi sedette vicino e mi baciò. Il giradischi ci regalò una beguine. Mi lasciai andare come un bambino in slitta. Vorrei restare così tutta la vita, dissi. Alice si staccò da me a disagio, accese una sigaretta. Allora, cosa ne pensi del video di Grappa Tax? Divertente, come sempre, però il regime faceva male a preoccuparsi. Alla fine, cosa si vede? Tutti insieme che ridono, su, come nelle sigle dei dibattiti, di cosa c'era da aver paura. Sai quanto sono stupidi. Comunque, ora mostreremo il filmato a tutti, attraverso i canali segreti. Così si saprà che Grappa Tax è dei nostri. Terrete anche l'ultima parte? No, quella la taglieremo. Continuo a non capire chi dava veramente fastidio a quel filmato, dissi. Sei sempre stato noioso moralista, Baol, disse Alice, sventolandomi sulla guancia a una ciocca di capelli. Grappa Tax quella sera si era reso conto di avere picchiato duro. Per un attimo ha avuto paura. Cos'è un attimo di debolezza nella vita di un uomo? Non ti sembra che dopo si sia ampiamente riscattato? Certo, dissi io, ma non è questo il punto. Il punto è che anche noi componiamo, ho sbaglio. È necessario alla causa, disse Alice. Non risposi. I nani passarono in piramide acrobatica strizzando l'occhio. La gente era ubriaca e partivano cori e bicchieri. Grappa Tax faceva l'imitazione di un prete pazzo. La mia faccia non doveva mostrare niente di buono perché Alice mi prese per mano e mi portò fuori all'aria aperta sul tetto del loft. Era una notte stranamente limpida. C'era una luna molto seria. Sotto di noi le luci della città si univano a quelle dell'autostrada e a quelle del mare. Sì, c'era anche il mare. Dobbiamo combatterli con tutti i mezzi, disse Alice. Hai visto cosa hanno fatto ad Atarva? Credeva davvero di essere un baolo. Sai cosa c'era nella cassetta che ha preso? Il filmato della sua cattura a dodici anni. Il destino ha voluto che almeno alla fine riavvesse indietro il suo passato. Lo mostreremo a tutti. E nelle altre cassette? In quella di Balser c'era la distruzione dei suoi marziani. In quella di Renella Mucca c'era l'assassinio di Macigno Liquirizia, il famoso lottatore nero impegnato contro l'Apartheid. Avevano detto che era morto in palestra sotto un attrezzo gonfia muscoli. È vero, ma sopra l'attrezzo c'erano salite dodici persone. Così sembra che tutti abbiano avuto quello che cercavano, dissi. E nella tua cassetta cosa c'era, professoressa Oc? Nella mia? Le poesie Baoldi esci. Ma dimmi, davvero non mi avevi riconosciuta? No, eppure avrei dovuto capirlo subito. Quel vezzo di assumere il tuo vero nome come nome segreto. Non basta tingersi i capelli, mettersi le lenti a contatto, fumare. E il neo? I nei bisogna tolgerli. La lo consiglia a qualsiasi dottore. Forse avevo paura che fossi tu. Avevo paura di ritrovarti e di questo momento ora devo chiedertelo. Perché sei sparita? Questo è il tuo segreto, Bedrosian. Non so se sei abbastanza vecchio per conoscerlo. Sono abbastanza vecchio per conoscere tutti i segreti di tutte le conversazioni, confidenze e confessioni di stanotte, e ascoltare senza battere ciglio e tenere una mano sulla spalla di tutti. Beh, se è questo che vuoi, disse Alice, si voltò all'improvviso. Mi sembrò che avesse gli occhi pieni di lacrime. Quando ti lasciai soffrì moltissimo. Era stando vicino a te, parlando con te, che avevo deciso di diventare ribelle. È stata la tua presenza a farmi desiderare di cambiare vita. Ma c'è un momento in cui dai sogni dalle parole si deve passare all'azione. È quello che feci e ti lasciai. Ma perché non me l'hai detto? Perché non mi hai voluto con te? Perché tu non esisti, Bedrosian Baol. Questo è il tuo segreto. Nessun Baol esiste. Non dissi nulla. Non gridai. Non dissi che era pazza. Qualcosa dentro di me diceva che doveva ascoltare e basta. Alice camminava, quasi invisibile, sullo sfondo della notte e la sua sagoma interrompeva tratti il disegno delle luci della città. Non sei mai esistito, Baol, se non nei nostri sogni. Tu eri la fantasia che facevi inventare giochi ai tuoi amici. Eri il sogno della vita banale dei tuoi genitori. Ciò che diede loro il coraggio di partire. Parlando con te, col compagno fedele ed entusiasta, il tuo amico Piotr trovò il coraggio di lottare. Dentro la cella quel prigioniero ti inventò e riuscì a resistere, parlando con te dei suoi progetti. E così io, negli alberghi miserabili, nei locali spietati, ti vidi, parlai con te, mi innamorai di te e trovai la forza di cambiare. Quando iniziamo l'operazione Grappatax pensammo ci vorrebbe un Baol al nostro fianco e subito ci riempimmo di entusiasmo. Senza di te non avremmo mai trovato il coraggio, ma tutti, appena trovata la nostra strada, ti abbandonammo. Perché tu sei un'idea, Baol, e nessuna idea può mantenersi pura. Saresti svanito come una bolla di sapone ai primi compromessi, eppure noi ti abbiamo amato veramente. Ma non tanto da farti vivere sempre con noi, perché nessuno può amarti come vorrebbe, ma tu ritornerai sempre nella mia vita e in quella di qualcun altro. Non voglio, dissi, non voglio che tu sparisca ancora una volta, io, io verrò con te. Succederanno cose diverse da quelle che avevamo sperato. Verrà il giorno che il dolore del mondo sarà così grande che per un attimo volteremo la testa per non vederlo, e in quell'attimo sparirai, Baol. Non puoi venire con noi, ma non ti dimenticheremo. Portatemi con voi, gridai. Ora ci sono molte cose da fare, disse Alice. Mi sfiorò il viso con una carezza. La sua mano era leggera come l'aria, quasi non sentì la seconda carezza. Chiusi gli occhi, non ci fu una terza carezza. Quando li riaprì, la soffitta era vuota, piena di bicchieri di carta, cicche, bottiglie rotte, i corvi gracchiavano sul tetto. Ero di nuovo solo. È una tranquilla notte di settembre, vi ho fregato. Sono seduto, indovinate dove? No, non all'apocalipso, l'hanno tirato giù con una bomba. È stato il racket del caffè. Galles usava il Mocasca invece del Colombian Royal. In due mesi però sarà come nuovo. Il bar, voglio dire, Galles non si è fatto neanche un graffio, o forse se l'è fatto ma non si nota. Io adesso sono sulla sedia più scomoda, al tavolo più schifoso del bar, più malfamato, della via più squallida, della zona più sordida della capitale del terzo paese industriale del mondo. Il cameriere sembra la colazione di Dracula. Ci sono scarafaggi anche dentro gli scarafaggi. Il fernet è dolce. Sul palco c'è una spogliarellista che ogni volta che si toglie qualcosa, c'è qualcosa che rotola giù, ma non si capisce cosa. Ma il pianista è fantastico. Se esiste l'anima sta suonando con quella. Ho chiesto se avevano un giornale. Perché? Si è cagato addosso? Ha detto il barman, che è veramente una persona delicata. Niente giornale. Allora ho cercato la televisione. C'era, ma davanti ci stava piazzato un energumeno che seguiva con lo zapping sette partite di calcio contemporanee. Voglio vedere le notizie. Le notizie, ha detto lui. Le notizie, ho detto io. Come hai detto? Le notizie, ha detto lui. Ho detto proprio le notizie, ho detto io. Poi gli ho tirato un pappagna in fronte e lui è caduto insieme alla sedia, alla bionda nel senso della birra e al suo amato telecomando. Così ho potuto vedere le notizie. Il premio dei premi sarà rimandato di una settimana. Il gerarca Enoch ormai da sedici ore non appare in televisione. Facce scure su tutti i canali. Notizie dell'ingorgo. Morte cinquanta persone, tre meno del mese scorso. Moltissime risse e stenti. Una bruciata. Il cadavere è irriconoscibile. Cinquanta tossicomani sono fuggiti dal centro di concentramento statale Salus. Per ognuno che verrà riconsegnato alla polizia c'è in premio un bilancino pesadroga d'oro. Cultura. Il poeta Ramanzer ha vinto il premio mercoledì per la più lunga poesia in apnea ed è candidato al premio giovedì per le migliori traduzioni di telegramma. Ma non sono queste le notizie che cerco. E quali allora? Allievo Bed. Questa volta non mi sbaglio. E la voce del maestro è un po' cambiato dall'ultima volta che l'ho visto. Allora indossava un kimono arancione. Adesso ha un completo gentleman vitadello con camicia oxford e cravatta stroboscopica. Facciamo una partita a biliardo per non dare nell'occhio, dice. Prende la stecca e al primo colpo mette in buca sedici palle tra cui due di un altro tavolo. Tanto per non dare nell'occhio, vero? Gli dico. Mi è partito il colpo. Ti volevo informare che secondo voci non ufficiali qualcuno è riuscito ad entrare negli archivi segreti del regime. Ed è scoppiato un gran casino. Si stanno scannando. Il loro compositore più bravo è sparito e si dice ci sia un filmato sull'urido modo in cui l'hanno reclutato. Voci anche su una bella compositrice, su Macignoli Querizia e su un ridicolo progetto marziano. Ma la voce più grotta è che Gravatex è ancora vivo. Non mi dire. Sì, e darà uno spettacolo dal vivo, una di queste notti in qualche supermercato abbandonato. Non male, vero? Ci deve essere lo zampino di qualcuno che conosco. Tirai e la palla finì sul lampadario. Basta con questa commedia maestro, conosco il segreto, bella roba. Tanto studiare ore e ore sui libri e poi non esistono neanche. Ma sei un baol, un'idea immortale e fascinosa. Sei il pensiero dell'altrove, magia, avventura, libertà, utopia e rock'n'roll. Che bel deblian turistico. Sono libero anche di non essere un baol? Questo no, disse il maestro imbucando anche la stecca. Beh, ora vado a cercare qualche pollo, pardon, qualche discepolo. Sono anni duri e non si devono lasciare i giovani in balia del tempo e dei venditori di complessità. Vado al Red Cat. C'è un ballo nuovo, assai adesivo, che si chiama Remora. Vieni con me? No, resto qui, dissi. Sono abituato a stare da solo. Non resterai solo per molto, disse il maestro. Nessuno sarà mai più solo. E sorrise magistralmente. Ora che il maestro non c'è più, sono pentito di averlo lasciato andare. Me ne sto qua, col mio bicchiere di Gordon Peeam in mano, e ascolto quel pianista straordinario. Spero che vada avanti tutta la notte, ed ecco che il posto comincia a riempirsi. Arrivano le tribù dei nictipori e dei seleni, i darkonauti dai sorrisi misteriosi, i vecchi pernodopoti, gli sputomachi, ragazzi dalla faccia pallida, lupesse un po' annoiate, travestiti allegri con barboncini rosa, batteristi, elder poet. Gli abili adi dasteri con stereo macigni sulle spalle e la tribù degli schetodromi su tavole alate. E i ranteri, e i cobali dai giacconi irti di punte metalliche, i dolcissimi panche muschio-tricoti, e gli schined ocriopodi, e anche qualche manageronte pentito, e uno spacciatore di elleboro, e una vecchia pusher di petunie che si scola l'incasso. Un vecchio ex terrorista che vende dinamite usata, fidanzatini da cartolina, squadra di calcio dopo l'allenamento, portinaie spiritiste, avvistatori di UFO, cercatori d'oro, iperborei, estracomunitari, mercuriani, maghi, streghe, maratoneti notturni filosofi. Non arrivano gerarchetti e clarette, con le loro torme di maggiordomi, niente aria di sette di spot di brut. Forse anche stanotte non ci spareranno addosso. Cosa pretendiamo di più? Sto qua e ascolto il pianista. Sono all'ultimo tavolo a sinistra, in fondo. Se non vi piace lo spirito del tempo, se vi piacerebbe conoscere la filosofia Baol, se non riuscite a dormire, o se state dormendo, venite, mi riconoscerete subito. Ho un tatuaggio a forma di fiocco di neve sulla mano. Starò qui, fino a quando il pianista suonerà, e finché ci sono io, suonerà.